Salve ragazzi e benvenuti in questa nuova video presentazione. Prima di iniziare a parlare dell'argomento affrontato oggi, vorrei fare una brevissima premessa su come studiare queste video lezioni. Utilizzate un quaderno per prendere gli appunti, segnate le parti che sono per voi più difficili, più ostiche, se ci sono delle parole che non capite, utilizzate anche internet, visto che probabilmente state utilizzando il computer per poter ascoltare queste video lezioni. E oltre a questo, le parti che non sono molto chiare, segnatele e postate, fate la vostra domanda come commento al contenuto che pubblico su Classroom. Come vedete dalla mappa concettuale, oggi si parlerà dell'energia eolica. Che cos'è l'energia eolica? L'energia eolica non è altro che l'energia che è posseduta dal vento. L'uomo ha sempre impiegato la forza del vento, anche da periodi molto antichi, per esempio per navigare, oppure per muovere le pale dei mulini. Questa serviva per esempio per macinare i cereali, per spremere le olive, o anche per irrigare pompando acqua. Però è da pochi decenni che l'energia eolica viene impiegata anche per produrre elettricità, perché ricordate sempre che il nostro scopo è quello di riuscire a produrre energia di tipo elettrico. La parola proprio eolica deriva da eolo. Dovreste, penso, sapere chi è eolo. È il dio greco del vento. E questa energia, è l'energia eolica, che non è altro che l'energia cinetica del vento. L'uomo, proprio come vi ho detto, ha imparato ben presto ad utilizzarla. Vediamo, per esempio, in questa figura, uno degli esempi dei primi mulini a vento risalenti proprio al 200 a.C. dai De Persiani. Diciamo che intorno al 1200-1300 d.C. in Europa, soprattutto nei paesi del nord, iniziano a diffondersi i primi mulini. E anche in Italia lo stesso Leonardo da Vinci studia parecchio l'energia cinetica posseduta del vento per poter essere questa energia sfruttata dall'uomo. Intorno al 1600 sono introdotte tecnologie ancora più raffinate, per esempio, cercando di perfezionare quello che è il profilo delle pale eoliche per renderle più aerodinamiche e per poter sfruttare quindi al meglio il vento. Qual è però l'invenzione che permette all'energia eolica di essere sfruttata anche nel campo elettrico? Come vedete in questa immagine è l'invenzione della Dinamo da parte del Belga Graham. Questa è avvenuta proprio nella metà del XIX secolo e questa invenzione aprì proprio il nuovo orizzonte all'utilizzo anche dell'energia idraulica oltre che alla produzione di energia attraverso gli impianti, attraverso i mulini. Nel 1887, scriviamo, nel 1887 il francese Duc Le Paltré, scusate il mio francese, costruì il primo aerogeneratore realizzato proprio in Europa che rappresenta proprio quindi il primo esempio di mulino che viene utilizzato per la produzione di energia elettrica. Però, come ho precedentemente detto, soltanto negli ultimi decenni abbiamo uno sviluppo molto notevole anche in campo di ricerca per la realizzazione di aerogeneratori che riescono a produrre energia elettrica sfruttando l'energia cinetica del vento su larga scala. Quindi l'energia elettrica si ottiene proprio sfruttando l'energia cinetica del vento come ho più di volte detto. E questa energia cinetica del vento fa girare le pale, quelle che vedete qui, di un elica. Queste pale, a loro volta, andremo a vederlo tra un po', sono collegate ad un generatore che trasforma l'energia meccanica, quella data dalla rotazione delle pale, proprio in energia elettrica. Questi moderni mulini che vedete anche in queste immagini prendono il nome di aerogeneratori. Prima di iniziare a capire cos'è e come funziona un aerogeneratore e vediamo, anche in queste immagini, vediamo, come dicevo, anche in questa immagine come si forma e che cos'è il vento. Perché è proprio questo il protagonista dell'energia eolica. Il vento non è altro che un fenomeno atmosferico che è dovuto, indovinate un po', al riscaldamento del sole. Quindi anche l'energia eolica deriva dall'energia solare. Un vento può essere analizzato sotto forma di due aspetti importanti. La forza, che è data proprio dalla velocità del vento, e la direzione. Voi tutti, noi tutti, abbiamo potuto proprio sperimentare che il vento non è costante e proprio cambia la forza e anche la direzione. La direzione si può osservare in modo molto semplice. Pensate in spiaggia, se c'è una banderuola, questa si lascia orientare dalla direzione proprio del vento. Mentre la velocità si misura con uno strumento che si chiama anemometro. L'anemometro lo potete immaginare come una semplice girandola che, esposta proprio alla forza del vento, va a misurare la velocità di rotazione. Quindi riusciamo a determinare la velocità del vento. Vediamo come ho detto. Ora andiamo ad analizzare il generatore. Di generatori ne esistono diversi tipi che hanno anche forme e dimensioni estremamente diverse. Possono essere, infatti, come vedete in queste immagini, a una, a due, a tre, o anche più pale. Quelli con pale lunghe intorno ai 50 cm vengono utilizzati generalmente come dei caricabatterie, quindi non parliamo, in questo caso, di centrali eoliche per la produzione di energie elettriche. Mentre ce ne sono alcuni le cui pale possono raggiungere anche i 30 metri di lunghezza e sono in grado di erogare potenze intorno ai 1500 kilowatt. Per esempio, giusto per avere un'idea, un aerogeneratore di quest'ultimo tipo riesce a soddisfare il fabbisogno elettrico di circa mille famiglie, e intendo fabbisogno elettrico giornaliero. Il più diffuso aerogeneratore è costituito da una torre di acciaio che ha un'altezza che può variare dai 60 ai 100 metri e queste possono generalmente essere a due o a tre pale e queste pale hanno per questi aerogeneratori più utilizzati, che sono quelli che comunemente si vedono anche nel nostro territorio, le pale hanno una lunghezza intorno ai 20 metri e riescono a fornire ogni aerogeneratore una potenza di 600 kilowatt, quindi circa 500 famiglie, il consumo giornaliero di circa 500 famiglie. Entriamo nel dettaglio e vediamo di capire proprio com'è fatto un aerogeneratore. Le pale del generatore eolico, queste, sono fissate ad un elemento meccanico che viene definito mozzo, si chiama mozzo, e questo elemento unito alle pale forma il rotore. Quindi, a seconda della posizione dell'asse a cui ruota questo meccanismo, si distinguono due tipi di rotore, quelli ad asse orizzontale o quelli ad asse verticale. Vediamo in questa immagine quelli che ruotano su un asse di tipo verticale o quelli che ruotano su un asse di tipo orizzontale. Quelli ad asse orizzontale sono quelli più diffusi, mentre i secondi, quelli ad asse verticali, quelli che avevamo visto anche utilizzati nell'antichità, ultimamente stanno nuovamente, ci sono numerose ricerche per poterli reintrodurre e per migliorare l'efficienza, però noi quelli che comunemente vediamo sono proprio quelli ad asse orizzontale e andremo a studiare proprio questi. In questa immagine vediamo la struttura di un generatore eolico con rotore ad asse orizzontale. Da che cosa è formata? È formata semplicemente da un sostegno che è l'elemento, che è la torre, in poche parole, che rega nella parte alta, nella sommità, una gondola, quella che vedete in questa immagine, che prende il nome anche di navicella. In questo involucro sono contenuti tutti gli elementi del nostro generatore, ovvero l'albero di trasmissione lento, il moltiplicatore di giri, l'albero veloce, il generatore elettrico e alcuni dispositivi ausiliari, ad esempio il sistema per bloccare o il sistema di controllo del generatore stesso. All'estremità dell'albero lento è fissato il rotore. Questo rotore, come non ricordo se già l'ho detto, è costituito dal mozzo e su questo mozzo sono montate le pale, che come abbiamo detto possono essere una, due, tre o anche più di tre. Una cosa importante è la forma della pala, perché questa forma è disegnata in modo tale che il flusso dell'aria che investe la pala stessa azioni il rotore, perché è questa che deve causare il movimento. Dal rotore l'energia cinetica è posseduta dal vento, viene trasmessa ad un generatore di corrente. Il generatore olico funziona a secondo della velocità del vento, perché in assenza di vento, naturalmente, il generatore non andrà a funzionare. Ma non è solo questo. Prestate attenzione, infatti, che al di sotto di un vento con una velocità al di sotto dei 4-5 metri al secondo, le pale non possono ruotare, perché l'intensità, la forza, l'energia, la cinetica del vento è molto bassa. La velocità minima che permette alla macchina di fornire una potenza, quindi di poter iniziare a ruotare, quindi fornire energia elettrica, è di circa 10-12 metri al secondo. Mentre, se le velocità superano i 20-25 metri al secondo, l'aerogeneratore viene spento proprio per ragioni di sicurezza, perché altrimenti avremo una rotazione troppo veloce e quindi potrebbero esserci dei forti danni all'intera struttura. Più generatori che sono collegati insieme formano quella che viene definita wind farm, ovvero fattoria del vento. Queste wind farm sono delle vere e proprie centrali elettriche. Infatti, una wind farm è costituita da un gruppo di generatori eolici che sono situati proprio all'interno di uno stesso luogo e sono interconnessi tra loro attraverso una rete di collegamento. Tutta l'energia prodotta da ciascuna turbina, da ciascun aerogeneratore, è coinvogliata in una stazione di raccolta. In questa stazione di raccolta vi è un trasformatore che converte la corrente elettrica che è prodotta dagli aerogeneratori che ha un medio voltaggio in corrente ad alta tensione. È come quello che avviene, che abbiamo visto anche nelle altre centrali, per poter questa corrente ad alta tensione essere distribuita. Generalmente una grande wind farm è composta da diverse decine o anche centinaia di turbine. Guardate queste immagini, quante turbine sono presenti in queste wind farm. E sicuramente vedete che copre un'area di diversi chilometri quadrati. Però c'è da notare una cosa. Visto che l'area coperta, l'area su cui viene disposto l'aereo generatore, è relativamente piccola. Le zone che si trovano tra un aereo generatore e l'altro possono tranquillamente essere utilizzate o per l'agricoltura o anche l'allivamento di bestiame. Quindi il terreno su cui è disposta una wind farm che si estende anche per diverse decine di chilometri quadrati può essere tranquillamente sfruttato. E questo è un grande vantaggio. Un altro tipo di wind farm di più recente realizzazione sono quelle che vengono definite offshore, cioè che si trovano in mare, lontano anche dalle coste. Perché vengono realizzate in mare queste wind farm? Perché è possibile sfruttare i forti venti che soffiano in quanto non ci sono, come sulla terraferma, degli ostacoli a rallentare l'intensità del vento. Un aspetto negativo però delle wind farm offshore sono i costi di realizzazione e anche di manutenzione. Immaginate dover costruire una wind farm con torri che devono essere ancorate sui fondali marittimi anche a 20 chilometri dalla costa, capite che non è un'operazione molto semplice. Dopo aver visto quelli che sono gli aerogeneratori, le wind farm e il funzionamento quindi di una centrale che si basa sulla forza del vento per poter produrre energia elettrica, vi un po' analizziamo questo grafico. Questo grafico illustra i primi 10 paesi nel mondo per capacità eolica installata, ovvero quelli, i paesi che producono maggiore energia elettrica e che quindi hanno installati, realizzati diversi campi eolici. Fa riferimento al 2017 e come vedete è stata installata una potenza di 52 gigawatt che è un bel incremento rispetto agli anni precedenti dove addirittura abbiamo un incremento dal 2016 al 2017 dell'11%. Ora, giusto questo è un dato per farvi capire quanto si sta investendo nel mondo nell'eolico. E un altro dato che emerge è che la maggior parte della potenza installata si trova in circa 10 paesi Cina, Stati Uniti, Germania, India, Spagna seguono il Regno Unito poi la Francia, il Brasile il Canada e infine l'Italia Nello specifico, come dicevo nel 2017 l'Italia si è posizionata come avete visto al decimo posto nel mondo nella classifica per potenza eolica installata e nel 2017 l'Italia aveva una potenza installata di circa 9,5 gigawatt ed è un posto di tutto rispetto se si considera le piccole dimensioni del nostro paese rispetto a paesi molto grandi come gli Stati Uniti o la Cina o anche l'India oltre a questo le condizioni per la produzione di energia eolica nel nostro paese non sono certamente delle più favorevoli e per quale motivo? Perché proprio ha una conformazione allungata stretta del territorio e anche la presenza di rilievi molto elevati come l'arco alpino e questi rilievi sicuramente ostacolano fortemente i venti tuttavia localmente vi sono molte zone favorevoli in particolar modo lungo i crinali appenninici soprattutto adriatici o sulle isole come la Sardegna e la Sicilia dove ci sono grandi potenzialità relative alle weed farm di tipo offshore finiamo concludiamo l'argomento analizzando quelli che sono i limiti e i vantaggi proprio dell'energia eolica il vento in sé è abbondante è economico è sicuramente inesauribile ed è ampiamente distribuito quindi l'energia eolica la possiamo considerare una fonte rinnovabile che non produce alcuna emissione di tipo inquinante peraltro soprattutto nell'ambito della produzione di energia elettrica una sua maggiore diffusione può contribuire in maniera molto significativa alla riduzione delle emissioni dei cosiddetti gas serra noi non abbiamo combustione nella produzione oltre a questo rispetto a quella solare e a quella geotermica l'energia eolica presenta un altro grande vantaggio quella di essere disponibile direttamente sotto forma meccanica e quindi è facilmente trasformabile in energia elettrica qui non abbiamo una trasformazione intermedia in vapore abbiamo l'energia meccanica direttamente disponibile per quel che riguarda gli aspetti negativi sicuramente l'impatto visivo di un aerogeneratore abbiamo visto l'altezza degli aerogeneratori che riescono ad arrivare anche a 60 metri quindi l'impatto visivo è parecchio evidente questo impatto può essere in un certo senso ridimensionato realizzando degli impianti che sono a una certa distanza dei centri abitati oggi si tende anche a diminuire l'impatto visivo disponendo le macchine gli aerogeneratori su una sola fila oppure anche utilizzando i colori stessi degli aerogeneratori con colori neutri o anche cercando di mimetizzarli nel punto nell'ambiente circostante colorando le parti basse con colori che riprendono il paesaggio altro aspetto che deve essere analizzato è quello relativo all'inquinamento acustico potenziale degli aerogeneratori questo inquinamento è legato a due tipi di rumore quello meccanico proveniente dal generatore e quello aerodinamico proveniente dalle pale del rotore quindi il generatore stesso che con gli attriti interni produce rumore ma l'aspetto aerodinamico è proprio il rumore del vento che va ad impattare sulle pale e le fa ruotare questo rumore in termini proprio di inquinamento è molto basso se paragonato a quello che si può percepire in città addirittura è stato calcolato che allontanandosi di circa 300 metri da una wind farm si hanno gli stessi decibel quindi la stessa quantità di rumore che si avverte normalmente stando nel traffico cittadino un aspetto importante è proprio quello che si cerca di realizzare degli aerogeneratori ad alta tecnologia che sono molto silenziosi infatti questi tipi questa tipologia di aerogeneratori permette di avere un rumore di fondo che anche a 200 metri dal generatore stesso è praticamente quello che si sente del rumore stesso del vento che attraversa la vegetazione circostante quindi è un rumore molto basso c'è pure un'altra problematica che molti definiscono un aspetto negativo delle wind farm cioè gli effetti elettromagnetici l'interferenza che può avere una wind farm con le onde elettromagnetiche per esempio degli apparecchi di telecomunicazione quindi delle antenne televisive delle antenne relative ai cellulari considerate che questo viene in un certo senso mitigato viene ridotto facendo sì che gli elementi di una wind farm devono essere posti a determinate distanze ben definite e quindi non vanno ad interferire con quelli che sono gli effetti elettromagnetici della propagazione delle onde di trasmissione ultimi effetti che possiamo andare ad analizzare sono le possibili alterazioni con la flora e la fauna sulla base delle informazioni che sono disponibili si è verificato che la possibile interferenza che possono avere con gli animali soprattutto con i volatili è data dall'impatto che alcuni di questi uccelli hanno con il rotore queste collisioni generalmente sono dei dati che abbiamo a disposizione sono molto rare e sono soprattutto limitate ai rapaci mentre gli uccelli migratori sembrano invece adattarsi alla presenza di questi ostacoli quindi non difficilmente ci sono degli impatti con i rotori mentre per quel che riguarda la vegetazione soprattutto si ha un danneggiamento della vegetazione in fase di realizzazione dell'impianto con la costruzione delle strade delle fondazioni degli aerogeneratori stessi ma anche alla movimentazione proprio del materiale per poter costruire l'impianto per ridurre questi effetti sul territorio ad esempio c'è l'obbligo di un ripristino della vegetazione al termine della fase di cantiere per poter ripristinare quindi bonificare e quindi migliorare quelle che possono essere gli interventi che sono stati che ha subito quella zona di territorio durante la realizzazione dell'implanto stesso per concludere se si rispettano alcune accortezze proprio nella fase di progettazione di una wind farm possiamo dire che tra tutte le centrali che producono energia quella eolica è una tra le più sicure e le più pulite durante il funzionamento infatti non abbiamo produzione di sostanze inquinanti né di polveri e oltre a questo anche dopo lo smantellamento tutto può tornare come prima senza proprio lasciare traccia nei danni sia all'ambiente che alle persone con questo abbiamo finito l'argomento relativo all'energia eolica ci vediamo la prossima settimana con una nuova video lezione grazie